È stato un sabato pomeriggio all'insegna dello sport, quello vissuto da circa 60 giovani atleti che incontra da Piop a Favara hanno dato vita al campionato provinciale di corsa su strada di pattinaggio a rotelle. Tre le società grigentine in gara. La manifestazione organizzata dallo Skating Club Acragas e patrocinata dalla sezione provinciale del CONI ha visto gareggiare ben sei categorie dagli otto anni in su. Il pattinaggio alle nostre latitudini è ancora uno sport poco diffuso e a livello mondiale attende il riconoscimento per l'ammissione alle Olimpiadi. Nell'agrigentino questo sport poco praticato sta iniziando a prendere sempre più piede ed a tirare sempre più giovani. Da cosa nasce la passione per questo sport? Non lo so, un giorno sono andata a San Leone, ho visto altri bambini pattinare e ho deciso di pattinare, ho provato. Da quanti anni lo fai? Dieci anni. Da anni hai? Quindici. Hai iniziato proprio subito dopo aver imparato a camminare? Sì, sì, da cinque anni così. Suggeriresti ad altri ragazzi di praticare questo sport? Sì, perché è uno sport molto bello e è bello. E quanto tempo lo fai? Tre anni. Sono delle realtà meravigliose direi io, anche se questo sport è poco conosciuto per ora, perché noi speriamo che questo sport possa rientrare al più presto alle Olimpiadi. Infatti il nostro presidente internazionale, Sabatino Araco, sta facendo di tutto per unire una commissione internazionale affinché questo sport entri alle Olimpiadi. È uno sport poco diffuso, forse è qua da Grigento, però noi ce la stiamo mettendo tutta per fare conoscere questo sport, perché è bellissimo. È uno sport che tratta l'equilibrio, di solito chi sa pattinare e poi sa fare quasi tutto. Gloria, da quanto tempo è che pattini? Tra un anno e mezzo. Cosa ti piace di questo sport? Di questo sport pattinare, fare tante amicizie e pure giocare. Ma l'importante non è vincere, è divertirsi. Ma tu ti stanchi quando pattini? Alcune volte sì. È uno sport che mi ha appassionato da sei anni. Quanti anni hai, scusi? Nove e mezzo. Quindi da piccolissimo. No, da sei anni che ho pattinato. E qual è il bello di questo sport? Il bello di questo sport è che ti permette di avere un rapporto con l'allenatore e con gli amici e anche con gli amici e gli altri gareggiatori. Come ti chiami tu? Dario. Dario.